Ciao. Per imparare a vincere nella vita bisogna imparare a perdere. Sembrerà un paradosso, ma è così. Ricordati che tutte le persone di successo hanno avuto dei fallimenti nella loro vita, sono passati da situazioni critiche particolari. Ma qual è la diversità tra queste persone di successo, le persone normali, che non si sono abbattute? Pensa che Bill Gates, che agli inizi del genio del PC e fondatore della Microsoft, non furono ovviamente le migliori. Dopo la rinuncia degli studi ad Howard, fondò un'azienda che presto fallì. Pensa che Walt Disney fu licenziato dal quotidiano per cui lavorava perché, così spiegò il direttore, pensate, mancava di immaginazione e non aveva nessuna buona idea. Quindi avviò una serie di attività imprenditoriali, nessuna di successo Walt Disney, finché non divenne il Walt Disney che tutti conosciamo. Ma pensate che anche Winston Churchill andava male a scuola, fu bruciato diverse volte e le sue prime esperienze politiche furono veramente deludenti. Anche Charles Darwin, il biologo che gesto le basi delle teorie evoluzionistiche, iniziò la carriera medica per abbandonarla dopo poco perché era un ragazzo ben di sotto alla soglia della normale intelligenza, venne definito. Quindi pensate che proprio queste persone, che vengono tutte di successo, partirono da grandi, grandi, ma proprio grandi fallimenti. Bene, qual è la diversità? È che una persona con mentalità vincente, una persona di successo, usa il fallimento. Innanzitutto fallire non vuol dire essere falliti. Fallire vuol dire che abbiamo fatto un qualcosa che non andava. Facciamo un esempio banalissimo, molto banale. Supponiamo di dover fare una frittata. Io la prima volta che faccio una frittata, mi metto lì e la brucio, la faccio male. Uno dice, è un fallimento. Ok, ho fallito nel fare la frittata. Perfetto. Ho due possibilità. O mi piango addosso, mi dico che sono fallito e non farò mai più in vita mia una frittata, oppure cerco di capire dove sarà l'errore. Cosa è successo affinché io arrivassi a sbagliare a fare una frittata? Ecco che questo atteggiamento positivo e propositivo mi porta a informarmi, magari a guardare dei video, magari a studiare per riuscire a fare meglio la frittata. Pensate che Thomas Edison, colui che inventò la lampadina a filamento, che per carità non si usa praticamente più adesso, adesso si va con le lampadine a led, ma c'è stato per decenni, per secoli, la lampadina a filamento che noi conosciamo. Bene, Edison per arrivare alla lampadina fece più di mille tentativi andati a male, ma non andò così a perdere di entusiasmo. Chiunque di noi dopo due o tre si sarebbe stufato, invece lui ogni volta diceva che ogni tentativo fallito era un punto in più verso il successo, perché aveva capito come non fare la lampadina. Quindi noi possiamo, tornando all'esempio banale della frittata, capire come non fare più la frittata, come non fare più quella cosa lì. Per cui ricordiamoci che per diventare persone di successo dobbiamo imparare a perdere e usare questa sconfitta per cambiare modalità di approccio e diventare persone vincenti. A presto, ciao!